Stancati di trascinare in giro quel pesante aspirapolvere e di doverti chinare a districare i fili? Sempre alla ricerca di una presa, che seccatura! Stufa di spostare l'arredamento a destra e sinistra senza poter raggiungere lo sporco? Quel cavo sempre impigliato è veramente irritante! È il momento di provare Star Life Cordless Buck, la scopa elettrica senza problemi e senza fili che ti permette di passare in mezzo, intorno e sotto gli oggetti senza nemmeno fermarti. È un sistema pulente completo e incredibilmente potente, così sarà più facile e veloce pulire tutte le zone più sporche. Star Life Cordless Buck arriva ovunque, pulendo le aree più difficili, all'interno o all'esterno, ai piani superiori o da basso, persino nella tua auto o nella casetta in giardino. La pulizia senza sosta di Star Life ti fa risparmiare parecchio tempo. Puoi passare in mezzo ai mobili oppure attorno e sotto senza spostarli, rende l'operazione più facile e veloce. Guarda come puoi spostarti velocemente da una stanza all'altra senza neppure fermarti, e tutto senza l'impedimento di un cavo. Ora puoi pulire tutta la casa al doppio della velocità con Star Life Cordless Buck. Star Life Cordless Buck pesa meno di 2 kg, puoi usarla con una mano sola. Star Life Cordless Buck arriva dove tutti gli altri aspirapolvere non riescono, non avendo cavi che le ostacolano, e funziona a due diverse velocità di aspirazione. Normale per la prassi quotidiana e turbo per lo sporco estremo. E quando avrai finito di pulire, il raccoglipolvere si svuota solo premendo un pulsante. Inoltre, grazie al design compatto salvaspazio, si può riporre ordinatamente. Star Life Cordless Buck si fa strada facilmente nello sporco di tappeti, parquet, persino mattonelle. È ideata con tecnologia senza fila ed elevate prestazioni, che ne amplifica la potenza, arrivando fino a 30.000 giri al minuto. È così potente che può persino sollevare una palla al bowling senza problemi. Autentica potenza destinata a durare, che elimina le particelle di polvere, gli allergeni e le sostanze inquinanti dall'aria, mettendo la tua famiglia al sicuro. Acquista la rivoluzionaria Star Life Cordless Buck. Il sistema pulente completo comprende la spassola per tapezzerie per tutte le tue sedie, divani o tende, la spassola antipolvere per davanzali, lidrerie o scaffali, la spassola sonodata per pulire ventilatori veneziani all'interno e intorno, la spassola per dispositivi elettronici e gli elettrodomestici e la bocchetta a lancia per raggiungere quei punti oltrastretti. Puoi avere tutto a un prezzo straordinariamente basso. È ora di provare Star Life Cordless Buck!